ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora in questo video parleremo dei saldi quindi che cosa acquistare con i saldi estivi che appunto inizieranno all'incirca questa settimana qui io ho controllato mi sembra verso il 3 luglio però non vorrei sbagliarmi ma so che comunque in ogni regione la data è un pochino diversa in ogni caso parliamo appunto di cosa acquistare con i saldi che cosa ci serve realmente acquistare cosa abbiamo già cosa non abbiamo eccetera parleremo un po di questo senza perderci in chiacchiere direi di iniziare subito con la prima cosa da acquistare con i saldi puramente in vista dell'estate la prima cosa che vi consiglio di acquistare sono i costumi so che i costumi di solito non sono in realtà in saldo visto appunto che si va verso l'estate quindi i commercianti ovviamente non li mettono in saldo perché comunque tutti li comprano in ogni caso però se riuscite a trovarne qualcuno in saldo secondo me farete un grande affare perché i costumi vi servono sempre in qualsiasi anno in realtà non passano mai di moda ovviamente a meno che non li prendiate con chissà che fantasie o cose strane i costumi in realtà sono sempre un passepartout non passano appunto mai di moda sicuramente per stare sul classico ho due pezzi o intero anche di colori classicissimi appunto così siete proprio sicuri che li sfrutterete anche nelle prossime estati seconda cosa da acquistare con i saldi dei capi crochet allora che cosa si intende con crochet in breve in sintesi crochet sarebbero quei capi diciamo in maglia non so se avete presente magari le vostre mamme o nonne che con i ferri si mettono a fare tutte quelle cose carine in maglia ecco quella cosa lì ci sono un sacco di capi diversi in crochet appunto si chiama in questo modo io ho visto soprattutto i top o i vestitini bellissimi veramente bellissimi secondo me proprio da acquistare almeno un capo secondo me dovreste averlo sono veramente anche loro molto versatili possono esserci sia eleganti che un po più sportivi ovviamente sta a voi decidere che cosa acquistare se vi interessa magari sapere dove acquistare tutti questi capi venite a seguirmi su tiktok vi lascio giù il link nell'info box faccio video molto più brevi in cui magari riesco a spiegarvi anche un pochino meglio e in modo più veloce e ottimale magari dove acquistare quel determinato capo in ogni caso chiusa parentesi come dicevo questi qui saranno dei capi tendenza d'estate quindi anche questi io ovviamente ora come ora non so se ci saranno in saldo ma so che andranno molto molto di moda quindi se ne se li trovate con i saldi approfittatene terzo capo da acquistare con i saldi i capi in sangallo torniamo ad un altro tessuto se così possiamo chiamarlo il sangallo è quella specie di appunto tessuto o trama molto ricorrente nei vestiti estivi e bianchi soprattutto metto qui una foto così potete anche farvi un'idea un po se non sapete che cosa sia sono comunque capi molto versatili solitamente come ho detto sono più principalmente dei vestitini freschi svolazzanti in questo pizzo sangallo bianchi soprattutto stanno proprio da estate dopodiché abbiamo una tendenza veramente che ha iniziato a spopolare in questo momento ovvero i vestiti in simil seta lunghi o corti è la stessa cosa ma i vestiti in simil seta sono freschissimi e adatti all'estate per questo vi dico che se li trovate in saldo dovete assolutamente acquistarli non potete lasciarveli scappare saranno un must have di quest'estate della prossima della prossima ancora veramente sono un must have li potete utilizzare con i tacchi per essere un pochino più eleganti ma anche con una scarpa da ginnastica se non volete esagerare da questa categoria mi collego anche agli abiti lunghi come quello che sta indossando io ora anche se non lo vedete ma è lungo fino alle caviglie gli abiti lunghi sono anche loro un must have per l'estate freschissimi possibilmente anche magari con qualche spacco qua e là in modo che l'aria passi ancora di più sono veramente veramente freschi ovviamente dovete scegliergli del materiale giusto e corretto per l'estate super consigliati anche gli abiti lunghi anzi scrivetemi anche giù nei commenti se avete già iniziato ad acquistare qualcosina se i saldi da voi sono già iniziati oppure meno quando inizieranno eccetera dopo di che passiamo ai blazer ok fermi tutti so che voi mi direte ora ma come il blazer non fa caldo si fa caldissimo in realtà fa veramente molto caldo ma secondo me questi saldi quelli estivi sono perfetti per acquistare quel blazer o anche quei maglioncini o capi invernali che poi ci serviranno appunto in autunno e inverno e ci lamenteremo di non avere quindi il mio consiglio è anche acquistate cose invernali in questo caso io vi consiglio più blazer ovviamente potete acquistare anche le felpi maglioni a seconda di quello che trovate nei negozi perché ovviamente in inverno questi capi saliranno di prezzo quindi è meglio approfittarne con i saldi estivi passiamo poi ai sandali la scarpa d'eccellenza d'estate soprattutto in quest'estate sandali colorati ovunque le vedete ovunque per questo sono qui a dirvi di acquistare dei sandali super colorati per l'estate con la bronzatura staranno veramente benissimo fidatevi di me e poi per qualche sera qualche aperitivo cena fuori ci stanno benissimo e riuscite a mio parere prendetene il più possibile perché li sfrutterete tantissimo infine ma non per importanza pantaloncini corti ma eleganti il mio consiglio è lasciar stare quei jeans troppo attillati stretti che questa estate vi fanno venire solo caldo ma scegliete dei pantaloncini un pochino eleganti svolazzanti con un tessuto ovviamente adatto alla stagione che non vi facciano sudare che non vi facciano caldo e così che possiate appunto stare bene anche voi perché fuori veramente si muore di caldo e quindi uscire con un pantaloncino del genere fresco di un buon tessuto e anche un pochino elegante secondo me fate anche una bella figura questo qui era tutto fatemi sapere se volete anche una seconda parte che io ve la registro molto molto volentieri io amo sempre il periodo dei salvi perché si può sempre trovare qualcosina di sfizioso ma occhio a non cadere nei bassi prezzi cosa intendo voi sarete sicuramente attirate da quel capo a bassissimo prezzo ma magari nemmeno vi serve ne avete già qualcuno nell'armadio vi serve magari qualcos'altro di diverso quindi assolutamente acquistate con la testa pensate e anzi il mio consiglio è quello di prima di andare al centro commerciale o fare shopping anche su internet stimate una lista scrivetevi una lista di ciò che vi manca guardate il vostro armadio fate decluttering fate il cambio estivo quello che volete l'importante è che vi fate comunque una lista in cui vi scrivete tutte le cose che vi mancano ad esempio top vestito eccetera e così quando andate ad acquistare sapete già quello che vi serve e non verrete attirate da altre cose questo qui appunto per oggi era tutto quanto io vi mando un super bacio vi ricordo di iscrivervi a tutti quanti i miei social giù nell'infobox da questa settimana tornerò super attiva anche su instagram quindi preparatevi e niente ci vediamo lunedì prossimo alle 15 con un nuovissimo video ciao